Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise, ben ritrovati per l'edizione flash del nostro telegiornale. Le adesioni al Comitato per la salvaguardia della Corte d'Appello di Campobasso diventano sempre più numerose anche di associazioni di molisani nel mondo. Proseguono gli incontri anche con i distretti delle regioni limitrofe, intanto domani sera il concerto al Teatro Savoia di Campobasso della band Il Tratturo. Sentiamo Tonino Danese. La battaglia per evitare la soppressione della Corte d'Appello di Campobasso è ormai diventata la battaglia di un intero territorio per evitare ricadute negative in più settori anche. Il Comitato per la salvaguardia del presidio inaugurato il 21 gennaio del 1987 e della giustizia di prossimità diventa sempre più consistente. Hanno aderito già una cinquantina di comuni. L'obiettivo è che lo facciano tutti e 136. Ma sono numerose anche le associazioni di molisani nel mondo che hanno sposato la causa come è stato spiegato in un incontro in Consiglio regionale dove è intervenuto telefonicamente Amato Berardi, molisano negli Stati Uniti, parlamentare della circoscrizione estera, eletto nella sedicesima legislatura. Noi abbiamo ricevuto ben 42 adesioni di associazioni nel mondo che vanno dall'Argentina all'Australia, dall'Inghilterra al Canada con manifestazioni di grandissimo interesse. Non ultimo abbiamo fatto vedere proprio da Youtube un'associazione di Buenos Aires che ha consegnato al nostro presidente Renzi la maglietta no soppressione della Corte d'Appello di Campobasso. Questa è una battaglia per la democrazia, per i diritti dei cittadini molisani. Contro la soppressione della Corte d'Appello in Molise è nata una pagina Facebook, c'è una raccolta firme e continuano i contatti con i distretti giudiziari delle regioni limitrofe per discorsi di allargamento e con il governo anche in vista dell'incontro con il ministro Orlando. In conferenza a Roma io ho portato all'attenzione del problema per avere assolutamente un decreto legge che possa prevedere una Corte d'Appello per ogni regione allargando anche i confini perché ci sono delle regioni che risultano, delle Corte d'Appello di regioni che risultano più intasate rispetto a quelle più piccole. A metà marzo ci sarà un convegno nazionale in Molise sul tema. Intanto domani sera l'atteso concerto gratuito della band Il Tratturo alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso che era stato rinviato in precedenza a causa neve, sciame e sismico. Chi aveva già il biglietto può usufruirne tranquillamente una serata di musica per ribadire la necessità per il territorio di mantenere la Corte d'Appello in Molise. Tramite il sito www.questaterradevevivere.it c'è un link apposta per potersi collegare, verrà trasmesso in diretta streaming e soprattutto può essere una diretta anche partecipata, nel senso che tramite Twitter e l'hashtag che comunque stiamo pubblicizzando questa terra deve vivere, chiunque dalla sala dal mondo potrà dare la sua testimonianza scritta che verrà poi passata nei sottopancia. Sullo smaltimento dei rifiuti abruzzesi a Pozzilli interviene anche il circolo del PD di Monteroduni. Oltre a dire no ad un eventuale aumento dei quantitativi e a chiedere al partito un coinvolgimento diretto dei circoli locali invita i comuni della zona a impegnarsi per l'attivazione di una stazione di monitoraggio dell'aria. Sergio Di Vincenzo. Il circolo PD di Monteroduni prende posizione e chiede un impegno di tutto il partito affinché venga scongiurata l'ipotesi di un aumento della quantità dei rifiuti da smaltire nell'impianto di Pozzilli. Il circolo, si legge in una nota, valuta come positiva novità la ripresa della programmazione territoriale, energetica e ambientale. L'approvazione del nuovo piano dei rifiuti con ambiziosi obiettivi sulla differenziata, l'avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica per il piano energetico ambientale regionale e per il piano di monitoraggio della qualità dell'aria rappresentano indubbiamente un'attuazione corretta di quelle politiche per la tutela del territorio fondate sulla scienza e sulla legge, da sempre tratto distintivo del centro-sinistra. Nessi può essere aprioristicamente contrari a trovare una soluzione industriale per i rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata. Ma allo stesso tempo si fa osservare alcune dichiarazioni rilasciate da personalità del partito sul nuovo accordo Abruzzo-Molise circa l'impianto di Pozzilli sono imprecise e mancano di un confronto con i circoli, soprattutto con quelli che operano in aree distanti poche centinaia di metri dall'inceneritore. Non è più nostra intenzione tollerare simili atteggiamenti che non hanno a che vedere con lo statuto del partito, dicono ancora gli esponenti locali del PD, che invitano al tempo stesso il comune di Monteroduni a unirsi con tutti i comuni dell'area e intervenire nella procedura di approvazione del piano di monitoraggio della qualità dell'area, facendo tutto quanto è possibile per ottenere una stazione di monitoraggio continua, prevista a carico dell'azienda negli accordi presi in fase di insediamento. In alternativa, concludono gli esponenti del circolo PD di Monteroduni, tutti i comuni dell'area potrebbero riprendere un vecchio progetto per l'acquisto di una centralina mobile condivisa, in modo da poter rendere i controlli indipendenti dalla cattiva volontà della politica e dalla ovvia volontà di profitto dell'impresa. Il direttore generale dell'ASREM, Mauro Pirazzoli, lascia anticipatamente l'incarico per motivi strettamente personali. L'annuncio nella conferenza stampa organizzata con il presidente Frattura e nel corso della quale ha sollecitato l'approvazione in tempi rapidi dei piani operativi. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Dopo un anno e mezzo, Mauro Pirazzoli lascia l'incarico di direttore generale dell'ASREM. Una decisione dettata da motivazioni personali che non li consentono di rimanere in Molise. Un addio sofferto, annunciato nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede della giunta regionale. Con lui c'era anche il presidente della regione Frattura. Il successore di Pirazzoli sarà individuato all'interno di un apposito albo dal quale attingere. Ma fino ad allora il direttore generale continuerà ad affiancare la regione nel delicato e difficile percorso di risanamento e riorganizzazione della sanità molisana. C'è stata un'importante inversione, diciamo così, non soltanto sul piano dei costi di gestione e dei risultati economici dell'azienda, ma anche un po' nella mentalità e nel modo di lavorare. Nel senso che abbiamo guadagnato molti punti nei confronti dei ministeri controllanti, soprattutto per quello che riguarda gli adempimenti LEA. I risultati ottenuti e quindi anche i finanziamenti per il pagamento dei debiti pregressi porteranno grossi vantaggi nel prossimo futuro. Grossi vantaggi intanto alla realtà regionale e soprattutto alle strutture produttive di questa regione perché consentiranno di pagare gran parte, se non forse quasi completamente, gli oltre 400 milioni di debiti maturati. C'è complessivamente un'azione di risanamento i cui effetti si stanno già delineando e soprattutto si stanno definendo in prospettiva in senso ulteriormente migliore. Purtroppo tante cose sono ancora da fare. Presidente Pirazzoli ha detto che bisogna fare in fretta e approvare i piani operativi prima possibile. Sì, noi siamo in attesa di chiudere con l'approvazione da parte dei due ministeri affiancanti il piano di rientro. Dopodiché dovremo firmare l'accordo per l'attuazione dello stesso. Il passaggio concluso ieri con il Ministero dell'Economia per la dotazione finanziaria, una prima dotazione finanziaria per accompagnare la regione a pagare i debiti al 31-12-2012 evidentemente definisce un accorciamento dei tempi perché si arrivi alla firma. Per quanto riguarda invece poi questo confronto aperto con Ruta e Leva e quindi anche con i ministeri a che punto siamo? Sì, siamo lavorando per capire la compatibilità delle due diverse impostazioni, una concentrata sul budget l'altra concentrata invece sul posto letto. Ritengo che sia un auspicio condiviso quello di arrivare a condivisione nell'impostazione. Se non si dovesse trovare un accordo? Se non si dovesse trovare un accordo ci sarà una contrapposizione in termini di impostazioni che mi auguro poi nei fatti possa essere superata da una riorganizzazione sanitaria di qualità nell'interesse dei cittadini e dei pazienti. Non ci sono soldi per la BIT di Milano, non ci sono soldi per i precari della sanità ma ci sono più di 7 milioni da appaltare per i servizi di reception dell'ASREM. Incredibile ma vero, si tratta dell'ennesimo caso di spese pazze della regione Molise. Ci racconta tutto Enzo Di Gaetano. Non ci sono i soldi per la BIT di Milano, non ci sono i soldi per le mille emergenze del Molise ma ci sono i soldi da dare alla più che nota Romeo Gestioni per il servizio di reception dell'ASREM per 7 anni a 7 milioni e 379 mila euro. Sì, è proprio così. Non parliamo della reception di un albergo a 5 stelle di Roma o Milano ma parliamo della reception dell'ASREM Molise. Di cosa si tratti non è dato sapere. Il provvedimento numero 100 del 12 febbraio scorso a firma dell'oramai ex direttore generale dell'ASREM Mauro Pirazzoli parla di adeguamento dei costi del servizio di reception da 7 milioni e 38 mila euro a 7 milioni e 379 mila euro. Tutto qui. Possiamo solo immaginare, fino a prova contraria, che si tratti di servizi generici offerti all'azienda sanitaria per l'accoglimento e lo smistamento dei clienti, magari per le informazioni. Di più non si sa. Si sa però che l'ASREM, quindi la regione Molise, quindi il commissario, nonché assessore, nonché presidente Paolo Frattura, nel giro degli ultimi mesi ha mandato a casa circa 500 precari della sanità, tra loro medici, infermieri, funzionari e finanche addetti al servizio stampa. Tutti a casa arriva Romeo Gestioni a soli 7 milioni per gestire la reception. E che sarà mai la reception dell'ASREM? Chi lo sa? Con 7 milioni, quanti padri e madri di famiglia precari avrebbe potuto confermare l'ASREM? Proviamo a fare i conti. A un milione all'anno, Frattura avrebbe potuto confermare in servizio 100 precari, a un migliaio di euro al mese. Invece no, tutti a casa. Ci pensa Romeo. Ma chi è questa Romeo Gestioni arrivata in Molise? Dai giornali apprendiamo che la Romeo Gestioni S.p.a. vince l'appalto per riscuotere i tributi dei comuni italiani. Ma l'imprenditore napoletano è stato indagato e condannato a tre anni per corruzione per la stessa mansione svolta a Napoli. L'uomo è stato coinvolto anche nello scandalo dei fondi neri della Margherita e ha finanziato Matteo Renzi con 60 mila euro. A scegliere a metà marzo del 2013 il gruppo Romeo è stata l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni, presieduta da Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia, politicamente vicinissimo a Matteo Renzi. E si parlerà di una sanità di qualità per tutti sabato nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. L'incontro organizzato dalla UIL vedrà la presenza del segretario nazionale Barbagallo. Sentiamo Marta Martino. Sarà a Campobasso il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo per partecipare all'iniziativa del sindacato molisano sulla sanità. Luogo dell'incontro sarà la Sala della Costituzione della provincia a Campobasso. Un'occasione fa sapere il segretario regionale UIL Tecla Boccardo per presentare una serie di analisi e proposte innovative per realizzare anche nella nostra regione una sanità di qualità per tutti. Il diritto alla salute anticipa Barbagallo non può essere subordinato alla necessità di bilancio, non può venire dopo le seppur rispettabili istanze degli operatori sociosanitari, non può essere pianificato dal burocrate di turno, regionale o nazionale che sia, e anche dal punto di vista delle politiche sociali e delle scelte che vanno compiute per realizzare un modello di sanità giusto che garantisca diritti a turti, occorre affrontare nodi centrali per fermare la progressiva deriva del servizio sanitario pubblico e garantire un sistema universale eco e sostenibile. Sul tema del diritto alla salute si gioca una vera battaglia di civiltà. Per ogni cittadino la salute viene prima di qualsiasi cosa, è più importante dei soldi, più necessaria del lavoro stesso, più indispensabile degli affetti e dei rapporti sociali. Per cui è indispensabile avere una classe dirigente valida, amministratori regionali che vogliano il bene della propria gente, che non guardino solo ai numeri di ieri e di oggi, ma progettino il Molise di domani, che pensino in grande, che elaborino una strategia per poi confrontarla e contrattarne i contenuti a Roma, che non si facciano guidare la mano dei burocrati e occorrono politici che ascoltino, che si confrontino apertamente e che poi decidano senza confondere autorevolezza con autorità, continua il segretario nazionale Will. Serve un confronto serio sulla sanità, ma per dialogare seriamente sono necessari anche seri interlocutori sociali e la Will non si tirerà certo indietro, conclude Barbagallo. Bagari in consiglio comunale a Termoli sulla mancata discussione della mozione sul progetto del tunnel tra il porto e il lungomare. Intanto è stata nominata la commissione che si occuperà dei referendum chiesti dai comitati civici, uno dei quali riguarda proprio l'opera voluta dall'amministrazione Sbrocca. Il servizio è di Fabrizio Occhionero. Si è concluso in un clima infuocato l'ultimo consiglio comunale a Termoli. Ad accendere gli animi è stata la mancata discussione di una mozione presentata dalla minoranza con primo firmatario Antonio Di Brino e relativa al progetto del tunnel, l'opera che l'amministrazione guidata dal sindaco Angelo Sbrocca vuole realizzare per collegare con una galleria il porto a lungomare. Voi che vi siete candidati all'insegno della legalità. Una mozione d'ordine partita dal consigliere Timoteo Fabrizio ha evitato di trattare in questo consiglio un tema che di fatto riguarda il futuro urbanistico della città e che aveva richiamato in sala consigliare comitati, associazioni e cittadini. Ma per la maggioranza in sostanza il progetto si trova ancora in una fase preliminare. Questo ha spiegato la presidente del consiglio Manuela Vigilante non significa escludere un dibattito ma la mozione prevista dal regolamento chiedeva di non discutere questo tema in quanto, aggiunto la Vigilante, non è possibile impegnare il sindaco in questa fase di evidenza pubblica. Per il consigliere Antonio Di Brino si tratta invece della pagina più buia per la democrazia al comune di Termoli come una mossa per non parlare di un argomento così importante adottata da un'amministrazione che si chiude a riccio rispetto a scelte che, ha spiegato l'esponente del nuovo centrodestra, riteniamo devastanti. Per Nicola Di Michele del Movimento 5 Stelle, che sarà ricevuto anche dal prefetto di Campobasso, questa maggioranza ha dimostrato ancora una volta il senso dittatoriale con il quale governa la città. Intanto dopo quattro votazioni il consiglio ha nominato i componenti della commissione che si occuperà dell'ammissibilità dei referendum chiesti dai comitati civici e che riguardano proprio il progetto del tunnel, l'ex cinema adriatico e il raddoppio ferroviario. La commissione sarà composta dagli avvocati Maria Luisa Di Nucci, Giovanni Casolino, Antonio Liberatore e Paolo Ziccardi. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.